la pompa bambino non sei se vado io non è che entrano nella falchetta devi filmare lì giù no ma tu sei fatto non sei se vado io, dimmi come si fa no niente devi guardare nel mirino e poi? aspetta, la fermiamo filmati filmati piano prendi l'orizzonte prendi bene l'orizzonte guarda 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 a ver lo estoy yendo es mi chica es mi chica de la zamada Grazie a tutti.